Secretario, cosa accadrà in Abruzzo con la nascita di Viva l'Italia dell'ex Presidente del Consiglio Renzi? Il parlamentare abruzzese D'Alessandro è già passato con il nuovo partito, ha lasciato il Partito Democratico. Ci sono altri che potrebbero abbandonare il Partito Democratico? Qual è la sua posizione e il suo giudizio? Dico quello che ho detto quando Calenda ha deciso di lasciare il PD. Credo sia un errore, ma credo anche che il punto oggi non sia quale sigla, quale leader personale, quale formula, quale posizionamento, un po' più a destra, un po' più a sinistra. Noi dobbiamo ricostruire tutto il centro-sinistra, deve ricostruire una sintonia con i cittadini, stare sui problemi, avere un'identità più netta, anche avere più chiare idee, più chiari i valori. E questo è il lavoro che stiamo svolgendo. C'è qualcuno che potrebbe lasciare il PD a livello locale? Non lo so davvero, credo che sia successo tutto così repentinamente, così a freddo che abbia spiazzato molti, anche molti che in Renzi hanno sempre visto un punto di riferimento. Vedo molto sconcerto e quindi dallo sconcerto alla chiarezza da farsi per ognuno, credo che passerà qualche giorno. Grazie. 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 Grazie.